Dottor Sguanci, sono comparse delle fioriere su alcune strade di accesso alla piazza. Cosa c'è alla base di questo provvedimento? Qual è la filosofia che vi ha animato per prendere queste decisioni? Come tutti gli anni in questo periodo, caratterizzato da una maggior presenza di persone nei centri storici, nei centri commerciali, nei luoghi di culto e via dicendo, è come tutti gli anni, dicevo, si è stato predisposto un dispositivo che prevede un maggior numero di pattuglie su strada, controlli mirati e particolarmente attenzionati, nell'ambito di una serie di direttive che chiaramente riguardano tutto il territorio nazionale, quindi direttive ministeriali. Quest'anno, anche per la particolare situazione venuta a creare a livello internazionale, nell'ultimo l'attentato di Berlina e via dicendo, chiaramente c'è un'attenzione, una sensibilità maggiore e particolare, pur in presenza, non in presenza, di un allarme specifico che riguardi la nostra provincia o la nostra città. Ecco, in questo ambito si vanno a collocare poi le cosiddette barriere, che in realtà non sono che fioriere, siamo pesanti di grosse dimensioni, che sono state collocate in alcuni punti strategici del centro storico, chiaramente in raccordo con l'amministrazione comunale e che hanno lo scopo non tanto di bloccare il traffico e quindi creare una sorta di zona, chiamiamola rossa, bensì di fare in modo che i veicoli che si avvicinano al centro storico e che quindi vanno a interessare le zone maggiormente frequentate, vi arrivino attraverso un percorso e quindi attraverso una velocità ridotta. Un sistema che poi, in occasione di eventi di particolare richiamo, come gli auguri per Natale o gli auguri per il fine anno o altre situazioni, vengono integrati con una maggior presenza di personale, una maggior presenza di mezzi della polizia, proprio a migliorare questo sistema. Ecco, il controllo del territorio, il monitoraggio, sapere, come dice il questore, chi c'è, che cosa fa in zona, comunque è il vostro movimento principale, questa è la vostra mission maggiore. È chiaro perché poi qualsiasi altra attività non può prescindere dal conoscere la realtà territoriale, quindi come diciamo qui nel verificare ad esempio la presenza di persone pregiudicate sul posto o che magari si sono evidenziate per particolari attività, ecco, quindi è comunque la base per qualsiasi attività anche investigativa. Grazie. 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 Grazie.